Pavimentazioni regolari e buche, così che si presenta la via Cassetti nel quartiere Saccara, disagi che i residenti lamentano da molto tempo per i conseguenti rischi per chi è di passaggio ma anche per chi vive nella zona. Per molti la preoccupazione cresce soprattutto per la vicinanza con le tubature del gas dell'aria interessata. La parte maggiormente danneggiata si trova in prossimità dell'incrocio con altre arterie, cioè via Magri, via Mussomeli e via Saccara. Sono diverse le criticità comunque evidenziate dai residenti del quartiere dove si ripresentano disagi e difficoltà nonostante siano stati effettuati anche degli interventi sulle strade come nel caso di via San Calogero.